Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, gioco una Blitz contro un 2000 e provo a risalire sopra il 2200, che è qui, qui siamo scesi, il 261, non va bene. Allora, volenti di cambio con cavallo in C3 gioco alfiere in B4. E' un'idea un po' strana perché questo è un alfiere buono, però indebolisce molto la struttura primaria del bianco con la cattura. Donne 2 scacco, potrei cambiare le regine volendo, si potrebbe anche fare. Donne 7, donna 3, però è proprio super pari, giochiamo con le 7, anche perché ora la sua regina è messa male. Cioè, no. Aiuto. Vabbè, mi salvo, dai. Un cavallo C6 e mi salvo. Ok. Per un attimo ho detto, ho perso un pezzo. Allora, stiamo un attimo attenti che qui, in un attimo qua perdo tutto. Allora, ho alfiere D7, idea cavallo per D4, che mi sembra interessante. Proprio fare rocco lungo, alfiere per, alfiere per, cavallo per D4. Mmm, alfiere D7 è interessante. Rocco lungo, alfiere per, alfiere per, cavallo per D4, donna per B7. Beh, dai. Fili D7, donna per B7 subito, c'è cavallo per D4. Fili D7. Cosa vuole fare? Cavallo per D5. Alfiere per, reper, cavallo per D4. Secondo me, sta un po' complicando troppo la partita. Cioè, ha fatto queste due mostre di regina molto strane, che, ovviamente, se prendeva il pezzo funzionava, ma, con cavallo C6 mi sono difeso e, mmm, non credo sia corretto. Quindi, ora, devo vedere come punire questo errore, o almeno, a parer mio mi sembra un errore, quindi va punito. Mi sembra, alfiere D7 è una mossa migliore, perché, eh, vabbè, H3, e qui, qui vinco. Allora, cavallo per D4, mi sembra la migliore. Minaccio la regina, non può catturare l'alfiere, perché c'è cavallo per C2. Cosa fa? Dona per B7, cioè, cavallo per C2, deve fare donna D3. Quindi, cavallo per D4 deve fare donna D3. E a questo punto, cosa faccio? Posso fare cavallo C6. E poi minaccio alfiere F5. Oppure, semplicemente, torno anche indietro. Proprio, male che va. Quindi, intanto, catturano. Poi capiamo. Donna D3. Oppure anche C5. Poi lo C6 è quella che mi ispira di più, però non mi piacciono gli scacchi che può darmi. Poi, alfiere C5 e minaccio alfiere F5. Forse questa è bella. Ah, no, sì. Questa, questa mi piace. Alfiere C5. Quindi, difendo il cavallo. Minaccio alfiere F5. Non può fare donna B5 e scacco su alfiere F5 perché c'è il cavallo. Eh, non mi piace la sua posizione. Non vorrei essere nei suoi panni, sinceramente. Ok, arrocco lungo. E sul fiere F5 io cattuo V e C2. Fiere F5. Allora, qui io in realtà dovrei arroccare per non rischiare nulla. Per tolire al centro su corona aperta. Quindi i principi dicono che dovrei arroccare. Però, qua, mi sembra che posso catturare tutto. Allora, donna G3 mi attacca a G7. Io potrei catturare C2 con l'alfiere. Che mi fa? Allora, ti fa torre 1. Mamma mia, che bella faccia arrocco. Alfiere H6. Posso fare alfiere G6. Ho cavallo in G6. Secondo me, io sono nel catturo. Se mi fa invece donna per G7, faccio torre G8. E poi attacco reggine torre. Quindi deve fare donna via. E io catturo la torre. Certo, è un po' più rischiosa, però dai. A noi piace il rischio. Boom. Alfiere C2. Mi aspetto donna per G7. Torre in G8. Donna o F6 o E5. Alfiere per torre. E invece no. Torre in 1. A questo punto, vabbè, arrocchiamo. Se è alfiere G5, posso fare... Ma volendo anche F6. Cioè, più o male che vada. Però mi aspetto alfiere H6 e gioco con G6. Invece no, alfiere 3. E si becca cavallo F5. Ma... Però c'è l'alfiere in difeso. Forse è questo cavallo F5. E io catturo l'alfiere. Però dopo donna via cavallo per perone per... C'è il cavallo in presa e anche l'alfiere. Quindi devo stare un attimo attento. Se invece questo cavallo F5... Donna via. Alfiere per torre per... Questo alfiere dove va? No. Ma l'alfiere torna a casa. Alfiere G6. Quindi se mi cattura, io cattura. Sono più che contento di cambiare i pezzi. Perché ho due per ogni vantaggio. Ho poco tempo. E allora ora... Giochiamo veloce. Quindi alla prossima cavallo F5... Cerco di semplificare tutto. Ok. Mi attacca qui. Cavallo F5. Donna via. Non succede niente? No. A me ma gli posso pure dare l'alfiere per il cavallo volendo. Però... Mi piace la coppia degli alfieri. Dai, teniamocela. Perché qui dopo D4... Secondo me... Lui ha difficoltà a manoprire con i pezzi. Quindi vediamo di... Di migliorare ancora di più il vantaggio. Allora, minaccio D4. Ma anche cavallo F5 mi piace tanto. Tacco la regina. Lo sento però che questo bello è in presa. Se do una F3 posso fare due cavalli in D4. E continuo l'attacco. No, però mi cattura qui. Allora ci sei. Se mi catturo, io catturo. Donna G5 scacco. Mi sembra interessante. Cavallo D4 pure. Torrine 8. Insomma, c'è ancora spazio per migliorare un po' i pezzi. E dai, andiamo sul scacco. Torrine 8 subito. Dopo cavallo qui. Forse adesso. Così dopo col D4 non ha case nella colonna E. Fatemi che mi cattura qui. Catturiamo. Vabbè, più pezzi cambiamo, per me meglio. Vabbè. Così è vinta proprio ad occhi chiusi. Ho troppi peoni in più. Per l'alfiere contro cavallo. Il cavallo è superiore. Cioè l'alfiere, scusate. L'alfiere è superiore. Però lo posso anche cambiare. L'alfiere è superiore perché? Perché abbiamo due isole pedonali. Quindi da una parte e dall'altra. E l'alfiere riesce a giocare ambo le parti. Cioè un alfiere al centro può controllare sia il lato di re che il lato di donna. Mentre il cavallo o va da una parte o va dall'altra. Quindi quando avete tanti pedoni o comunque peoni sparsi nelle due lati della scacchiera l'alfiere è più forte del cavallo. Allora F4. Limitiamo il movimento di questo cavallo. Che già adesso non ha case. Ok, adesso dovremmo attaccare qualche pedonolo. No, non semplicemente andiamo a promozione. E2, torre qua, finita. E2, cavallo qui. Torre qui. Re qui. Ah, se faccio direttamente torre scacco, su cavallo a quattro e scacco che succede? Ah, mi fa questa. Mmm, questo è interessante. Anche se comunque è tutto difeso. E quindi portiamo un'alfiere qua. Su cavallo e4 torre 1 vince, sì. Su cavallo d3 avevo pensato ad alfiere e3, così è tutto difeso. E ora torre 4 e qua, no, non funziona. Forse ho sbagliato. Ah, vabbè, ma ora c5 e c4. Devo solo far spostare questo cavallo. c5 e b5 e c4. Farà b3 e gioco b5. No, oltre il cavallo viene attaccato, la partita è finita. Re qui, eh, mi attacca, mi attacca la torre. Torre g2. Re d1 non l'avevo pensato sinceramente, però non c'è niente, dai. Ti pedoni. E poi posso anche fare torre g1 o no? Torre per alfiere per alfiere per alfiere per alfiere per alfiere. Quindi una volta che porto il primo in c3, farò torre in g1. Attenzione, ammocio il cavallo. Lo poteva fare? Sì, volendo sì. Non gliel'avevo vietato ancora. Però posso fare torre f2 per alfiere per alfiere. Niente, devo portare il primo in c3. Ecco, che ho g4 non va. F6. Attacchiamo questo cavallo. Come si è permesso a muoversi. Dopo c4, c3. Ok, c4. Ok, poi c3 e torre g1. È un'idea. Ho anche torre f2. Però sto pensando perché cambiare le torri. Io sbedo a chiudermi la torre qua, forse. Ho sbagliato. La f5. F5 è la mossa. Tanto c3. Se è rc2, torre qua, re per torre qua e vinco. Questo è ok. No, f5 devo fare così. Pedone per. E mi libero la torre. E vado a catturare tutti i suoi pedoni. Spero di non sbagliare perché ora... Non dovevo lasciare la fine 3. No, perché tanto sono tutti difesi. Vabbè, non l'ha catturato. Lui avrebbe dovuto catturare. Sto finale lo sto un po' sottovalutando. Comunque, vabbè. Mi sta freddo catturato tutto. Diciamo che così è più semplice vincere. Minacciatore scacco. Ed è matto. A qualsiasi perché anche se fa cavallo e 2 la posso fare. Ah, questa è vera. Questa ha ragione. Allora, potrei fare alfile qui. E io mangio il cavallo. Ah, sì, dai. Ok. Potrò giurarlo meglio il finale. Comunque, dai. Diciamo che non ho giurato male. Ditemi nei commenti che ne pensate di questa partita. Vi lascio qui di venire in prima impressione. Fai sapere quali rubriche volete che porti di più sul canale. Così vi accontento. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie a tutti.